Buon pomeriggio e bentornati all'Abruzzo sul 15. Ne vogliamo parlare. Oggi il nostro primo ospite è il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, la professoressa Rita Tranquilli Leali, che come sapete il 31 ottobre lascerà l'incarico e oggi non solo ci spiegherà come sono andati i fatti all'Università degli Studi di Teramo, ma ci racconterà anche della sua vita, perché la professoressa Rita Tranquilli Leali ha dedicato 27 anni della sua vita all'Ateneo Teramo. Poi, come sempre, torna la nostra rubrica Blog Notice con la nostra Giorgia. Oggi uno spazio particolare, perché ci parleremo di make-up, alcune persone che ci verranno a trovare ci faranno vedere come si truccano gli occhi, state in nostra compagnia, che poi lo vedremo. E infine verrà a trovarci Enrico Mazzarelli, segretario della Presidenza della Giunta regionale abruzzese, con il quale faremo il punto della situazione sull'amministrazione regionale. Ma con Mazzarelli parleremo anche delle ultime vicende politiche che riguardano soprattutto, almeno le indiscrezioni che riguardano soprattutto il Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, che sarebbe tra i papabili alla candidatura a Premier nel centro-destra e vedremo cosa ci dirà quello che poi è il braccio destro del Presidente Chiodi. Ringrazio e saluto anche i nostri amici musicisti Elisa e Armando, ovvero Imae Lisando, saluto e ringrazio in particolare la professoressa Rita Tranquilli Leali, il Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, che oggi è venuta a trovarci dopo, diciamo, un periodo un po' particolare, professoressa. Intanto la notizia, come tutti sanno, è che lei il 31 di ottobre lascia l'Università degli Studi di Teramo, sia come Rettore che come Insegnante. Sì, sì, sì. Ho stabilito appunto di chiudere questo periodo, onde evitare qualsiasi illazione, perché di le azioni ne sono state prospettate fin troppo. Certamente anche non tenere il corso per me è un dispiacere, perché io ho dedicato la mia vita all'insegnamento. Il titolo più bello è sempre quello di prof, essere chiamata dai ragazzi prof, però ritengo giusto che sia così. Lei volendo poteva insegnare ancora, vero? Sì, dipendentemente dall'applicazione o meno della disciplina in vigore, dettata in materia della riforma universitaria, io avrei potuto continuare ad insegnare in virtù anche di un contratto eventualmente. Però tanto clamore ha un certo senso condizionato e quindi io ho preferito lasciare anche perché è anche una lezione, diciamo così, di vita per i ragazzi. Allora, ricostruiamo un po' quella che poi è stata la vicenda che ha coinvolto l'Università degli Studi di Teramo e ovviamente in prima persona il rettore e la professoressa Rita Tranquilli Leali. A un certo punto, e io infatti anche in un'intervista che poi noi abbiamo trasmesso nei nostri telegiornali, a un certo punto la situazione è esplosa, esplosa passando attraverso una sfiducia nei suoi confronti del Senato accademico, una sfiducia da parte di alcune facoltà. Sono stati giorni e momenti febbrili, mi posso permettere di utilizzare questo termine, che poi alla fine lei è arrivata ad annunciare nell'ultima seduta del Senato accademico, proprio il suo abbandono, neanche abbandono perché è una scadenza, sarebbe anche una scadenza naturale, vero quella del 31 ottobre? Fino a un certo punto, sicuramente è stato un periodo febbrile, sicuramente febbrile, con una sfiducia che il nostro ordinamento attualmente non prevede, ma io non voglio soffermarmi su questo profilo. e poi ho deciso, come ti ho detto, posso darti del tudorotea, anche in trasmissione, anche come ti ho detto che indipendentemente dalla risposta del ministro, io ho preso la decisione perché veramente io sono molto legata all'Ateneo di Teramo. Lei ha cominciato quando ancora era ad annunzio? Quando era ancora ad annunzio nel 1985, quindi ho trascorso buona parte della mia vita qui a Teramo e Teramo è diventata un po' la mia seconda città, prima città, ecco, nel senso che io ho fatto un pendolarismo forse all'inverso perché qui poi a Teramo, così come un po' il mio temperamento, ho creato tanti rapporti umani, il mio centro anche della quotidianità, quindi sono stata veramente felice a Teramo. perché a un certo punto ho deciso il 31 ottobre di andare via? Non è stata né una resa né nulla, ma semplicemente ho ritenuto che fosse quella la decisione giusta. Anche alla luce di quello che stava accadendo intorno a lei? Sì, ma perché avevo gli strumenti e gli avevo gli strumenti per andare avanti, ma non erano gli strumenti che io volevo utilizzare nei confronti del mio Ateneo, perché se permette tra virgolette dico il mio Ateneo è il quale sono veramente legatissima, sono grata e ne sento molto l'appartenenza e di conseguenza rispetto che alla mia persona, quindi a quello che poteva essere in definitiva un mio diritto, secondo la disciplina vigente, doveva soccombere di fronte all'interesse dell'Ateneo. Il malcontento, quando è iniziato verso il suo operato di fatto? C'è la sfiducia del Senato accademico e la sfiducia di queste facoltà. Però non diciamo sfiducia, perché altrimenti ti devo dire, Dorotea, questa posizione. Il termine sfiducia è un termine giornalistico che abbiamo utilizzato per raccontare quello che stava accadendo all'interno dell'università. Comunque, la situazione che poi si è venuta a creare negli ultimi giorni, per lei è stata come un fulmine a ciel sereno o un malcontento serpeggiava già da tempo? Quando ci sono le difficoltà economiche, ma non difficoltà specifiche dell'Ateneo di Teramo, ma di tutto il sistema universitario nazionale, pensi che dal 2006-2007 ad oggi abbiamo avuto una diminuzione in via generale del 13% degli stanziamenti ministeriali. Naturalmente bisogna ricorrere alla razionalizzazione delle spese e quindi della stessa azione amministrativa. E già questo diventa un elemento difficile, cioè una differenza tra le modalità del passato rispetto alle modalità che vengono ad essere cambiate. E poi tra l'altro che situazione ha ereditato? Al di là di quelli che sono i tempi, ovvero la crisi, ovvero il taglio dei finanziamenti e tutto quello che c'è dietro ad una crisi come quella che stiamo vivendo, ma lei che università si è trovata a gestire, sia da un punto di vista economico che gestionale? Vede, io ho grande rispetto dei rettori dell'Università di Teramo, cioè dei miei precedessori, quindi non voglio in alcun modo intaccare la loro posizione, il loro operato. Però, voglio dire, molte situazioni che ho dovuto affrontare riguardavano fatti pregressi e anche questi, logicamente, hanno inciso su quella che poi diventa la gestione concreta, quindi le problematiche, anche riferimento alla famosa razionalizzazione delle spese. Le capisce che se mi trovo a dover affrontare una situazione del 1999, non potevo certo presupporlo di trovarmi di fonte a eventi straordinari, possiamo dire, ecco. Ho cercato, naturalmente, di operare con un impegno, come ti ho già detto, proprio quotidiano e fedele, perché penso che questa sia un po' la caratteristica e, naturalmente, con l'obiettivo, l'obiettivo era di far sì che l'Ateneo potesse, quindi, non solo andare avanti, ma progredire. Non peraltro, ho ricostituito anche un avanzo di amministrazione, quindi non è che soltamente un vivere per vivere, ma un vivere avendo degli obiettivi futuri. Certamente non potevo più contare su fondi ministeriali da destinare in maniera concreta alla ricerca, perché ovviamente è la ricerca essenziale, perché incide la ricerca sulla stessa didattica. Poi, attraverso la ricerca, si riesce a creare quella classe del domani che la società ha bisogno dei giovani, quindi l'alta formazione. Ha dovuto sacrificare qualcosa? Sì, però ho cercato dei fondi all'esterno, così come ho ottenuto una percentuale maggiore sui fondi regionali destinate alle università, proprio per destinarle prioritariamente all'alta formazione dei giovani dottorati, assegni di ricerca e poi ovviamente alla ricerca, perché quando si vive all'università si vive veramente in questa india di scendibile, didattica, ricerca, ricerca, didattica. Per tornare alle ultime vicende, lei si è sentita in alcuni casi o da qualcuno o da qualche fatto, episodio, in qualche modo tradita? Colpita sicuramente, colpita sicuramente, tuttavia desidero dimenticarlo. Forse lei, e questa è una domanda che le faccio da donna, secondo lei ha pagato il fatto di essere una donna, diciamo così, di potere? Se al suo posto ci fosse stato un uomo, le cose sarebbero andate a gestire l'università così come la stava gestendo lei, no? Perché ovviamente, diciamo così, quello che è successo non è successo contro Rita Tranquilli Leale come persona contro la gestione di Rita Tranquilli Leale, almeno. Certo, anche con gli organi collegiali, naturalmente. Dunque, nella stessa sua posizione, con lo stesso tipo di gestione, se al posto suo c'era un uomo, secondo lei, i fatti sarebbero andati nella stessa maniera? Non lo so, non lo so se qualcosa poteva essere diverso. Da donna orgogliosa, non lo voglio ammettere, naturalmente, non lo voglio ammettere da donna orgogliosa, ma certamente penso che sia più facile pensare sulla debolezza, sulla debolezza da donna, pensare una donna debole, debolezza di una donna, piuttosto che abbinare il significato di debolezza ad un uomo. Solamente che debole non sono, e l'ho dimostrato anche dalla mia decisione, dove pur potendo utilizzare degli strumenti, ho preferito non utilizzarli. Insomma, ha deciso... Non è stata una resa, la mia. Sì, sì, ma è la seconda volta che lo dice, io so come il carattere che ha lei, ed è abbastanza evidente, ma lei l'ha ripetuta un'altra volta, è evidente, insomma, che non è una resa, ma è una decisione che è maturata, tra l'altro, dopo un'attenta riflessione, immagino. Sì, 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 certo, perché il mio io doveva non prevalere. Io, se sono rimasta tanti anni all'Università di Teramo, perché sono voluta rimanere all'Università di Teramo, avevo la possibilità di andare in altri Atenei, forse... Sempre a fare il rettore? No, 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 e io sono nata professoressa Dorotea, e quello che più mi è mancato nel periodo proprio del mio mandato da rettore è stato proprio l'assenza di tempo, o perlomeno l'assenza di quel tempo, che avrei voluto per studiare, per continuare ad affrontare le problematiche più recenti della mia materia, e io l'ho sempre affrontato, e non in maniera teorica, ma in maniera scientifica, con effetti sulla vita della quotidianità. D'altra parte, la peculiarità del diritto della navigazione è anche questo, la sua rispondenza, le esigenze della società. Lei si occupa, a proposto, intanto ricordiamo la professoressa Rita Tranquilli Leali, cosa ha insegnato per tanti anni? Eh, diritto della navigazione. Tra l'altro, in questo momento si sta occupando proprio di demanio marittimo, la direttiva BOL che sta iniziando. Eh, sì, infatti ora... Una vicenda molto delicata per chi vive... Eh, molto, molto delicata, e purtroppo siamo arrivati a una situazione abbastanza difficile per la tutela di tante imprese di balneazione, e quindi rivedere anche un po' tutto il concetto delle concessioni sul demanio marittimo, ma spero di studiarla e di riuscire a trovare qualche soluzione, perché mi creda, ci sono tante piccole imprese familiari e tante famiglie coinvolte... Non lo vediamo anche sul nostro territorio, perché la costa terramana... La costa terramana, infatti, capito? Quindi sono veramente un problema molto, molto grande. Quindi ora subito sarò impegnata a riprendere i miei studi e la mia posizione, ovviamente, nell'ambito della mia materia. Poi magari andiamo, ci spiegherà cosa farà quando andrà via dal primo novembre, sempre se non resterà comunque all'Università degli Studi Termo. Tra l'altro lei farà da garante, l'è stato chiesto di fare da garante in questa fase di transizione... Sì, di fare, di assumere una commissione per il periodo, per l'applicazione della riforma, per lo statuto, ma io, anche se non è emerso nel comunicato stampa, perché ho sempre rispetto dovuto e doveroso al Senato accademico, ma io ho detto che non potevo accettare. Non potevo accettare perché il mio rapporto con l'Ateneo non era basato sugli onori, ma sul servizio, ed era giusto che io, in punta di piedi, tornassi ai miei studi. Lei, prima dell'ultima riunione del Senato accademico, ha scritto anche una lettera a chi l'ha indirizzata, ai docenti? Sì, a tutti, agli studenti innanzitutto, perché sono il fulcro di un Ateneo. Noi viviamo per loro, perché dobbiamo formarli, al personale tecnico e amministrativo di biblioteca e ai docenti tutti. Cosa ha scritto in questa lettera? Ce lo vuole ricordare? L'ho scritta anche per, soprattutto per correttezza, per far sapere che la mia posizione non era una posizione infondata ed illogica, e soprattutto perché sono stata sempre trasparente e chiara e di conseguenza volevo anche in quell'occasione far partecipe delle mie ragioni, dei miei sentimenti, tutti coloro che appartengono all'Ateneo, perché io ho sempre ritenuto che l'Ateneo sia anche una famiglia e quindi anche certe distorsioni che sono apparse all'esterno, non so come le spese del Rettore, queste cose, non sono spese, diciamo, del Rettore, che sono spese che sono state sempre assunte insieme agli organi collegiali, ma che io per prima, a proposito della famosa Viale Crucioli, avevo proposto l'estrapolazione di quel punto. Tra l'altro, diciamo, questa volontà di mettere in una programmazione che non necessariamente deve essere attuata, anche la tutela, diciamo, di un bene immobile dell'Ateneo è anche precedente, anzi, mi pare di ricordare che nell'anno precedente, all'inizio del mio mandato, la somma prevista in questi programmi triennali, quindi si può immaginare che questi programmi triennali come poi vengono a trascinarsi, prevedesse una somma estremamente maggiore di quella che gli uffici competenti hanno proposto negli ultimi anni. Quindi, come vede, non c'è stata alcuna mia posizione o spesa del Rettore, ma era una spesa che quindi nella programmazione triennale veniva dal periodo precedente al mio mandato e che in ogni caso però ritengo che l'istituzione universitaria debba essere accanto ai cittadini, non debba essere, sentivo una volta che mi dicevano, ah è arroccata il fortino, e anche per dimostrare che l'Ateneo è qualcosa di vivo, ma vivo accanto alla cittadinanza, accanto ai cittadini, tuttavia ovviamente le situazioni possono evolvere, ma sempre nel rispetto della tutela degli interessi dell'Ateneo. è un bene pubblico e deve essere attentamente, diciamo, studiata la sua utilizzazione, la sua allineazione, tendiamoci, per cui non è che sposo una tesi o l'altra tesi, dico semplicemente è un bene pubblico, un bene a garanzia degli interessi anche dell'Ateneo, perché lei capisce una banca, difficilmente accende un'ipoteca su un edificio pubblico destinato alla didattica, all'insegnamento. Professoressa, noi dobbiamo andare in pubblicità, prima però le facciamo ascoltare una bella canzone dei nostri bravi, Elisa con la sua voce, Armando con la sua musica, e poi andiamo in pubblicità e poi magari continuiamo anche a commentare un fatto di cronaca di strettissima attualità che ha coinvolto l'Università degli Studi di Teramo, la notizia è proprio di questa mattina. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, va bene? Buon pomeriggio, Donatea, buon pomeriggio. Vi trovo in forma come sempre. Grazie, grazie. Anche se so che oggi siete un po' stanchi. Poco poco, ma con la musica si supera tutto. Si supera tutto, è vero, con la musica e l'entusiasmo. Esatto, esatto. E allora noi partiamo con una bella canzone di qualche tempo fa, in un arrangiamento nuovo, Quando, quando, quando. Che bella. Dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora e poi. Forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando, 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 l'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirmi perché. Non ha senso per me, non ha senso per me, la mia vita senza te. Dimmi quando, 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 l'improvviso ti vedrai. Dimmi quando, 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 e baciando mi dirai. Non ci lasceremo mai. E se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché. E non ha senso per me, e non ha senso per me, la mia vita insieme a te. Dimmi quando, 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 e baciando mi dirai. Non ci lasceremo mai Non ci lasceremo mai Non ci lasceremo mai Eccoci di nuovo insieme, sempre in nostra compagnia e rettore dell'Università degli Studi di Teramo, la professoressa, e sottolineo professoressa, Rita Tranquilli Leali, lo dico perché la professoressa ci tiene, insomma, dice che il ruolo che gradisce di più è quello di prof, è la prof. Le chiedevo e poi torniamo all'attualità, siccome glielo stavo chiedendo durante la pubblicità, lei è romana perché è nata a Roma, ma i suoi genitori che si sono conosciuti all'Università a Roma sono di? Mamma di Paglieta e papà di Roma e si sono conosciuti all'Università, mamma frequentava lettere antiche e papà giurisprudenza, ma poi fin da piccolissima sono stata molto anche in Abruzzo, perché... Per metà abruzzese Ma mi sento molto abruzzese, ho ripreso molto dalla famiglia di mamma, di conseguenza, ecco, sono molto orgogliosa. Per me anche aver potuto lavorare all'Università di Teramo, quindi l'Università abruzzese, è stata veramente una fonte di grande orgoglio, L'Università della mia, lo ho sempre conto la mia regione, e poi c'è uno strano destino per me, perché io in realtà ero destinata all'Università di Teramo, quando iniziarono i corsi, i primi corsi di giurisprudenza, che non c'era ancora un'Università, e c'erano dei professori che volevano che io iniziassi a collaborare con loro e quindi venire a Teramo. Ma sai, c'erano quei principi che ho portato sempre dentro di me, che ho cercato di applicare, che cerco di applicare fino al 31 ottobre del 2012, cioè, essendo dei professori che erano suoi amici, non era serio che io facessi la carriera universitaria con i suoi amici. Una regola di vita, capito? Perché poi la puoi ritrovare nel tutto il corso della mia vita, anche universitaria. Io avrei potuto fare la tesi, come ho iniziato a farla, in diritto amministrativo, perché papà era un amministrativista e quindi mi piaceva molto, ma poi ho avuto l'orgoglio di dire, no, voglio fare una materia che ugualmente mi piace, studiando i profili più pubblicistici, ma dove io conquisto tutto, senza l'aiuto di nessuno. E così ho fatto. E quindi la mia visione dell'università credo che anche sia dovuta a questo modo, diciamo, a quale sono stata educata e che io poi ho attuato in pieno. Quanti sono i rettori donne in Italia? Eh, pochissimi, se non so, su circa 70 rettori ce ne sono 5-6, non di più. Dunque l'Università di Teramo aveva quasi un'unicità. Sì, perché quando sono stata nominata dal ministro dell'università, dell'istruzione, dell'università, ricerca, rettore, eravamo anche di meno. Eravamo anche di meno, sì. In questa vicenda, professoressa, si aspettava più sostegno, quando parlo di questa vicenda, intendo degli ultimi fatti? Sì, 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 sì. Ho avuto però un tanto sostegno, diciamo, non visibile, non mediatico, ma forse più vero. E soprattutto anche, diciamo, da parte non solo di coloro che attualmente si trovano in università, dagli studenti, ma anche da tanti studenti che avevano trascorso la loro vita universitaria nell'Ateneo di Teramo. Erano stati i miei studenti, i miei laureati. E ti dirò che il loro sostegno per me è stato brevemente grande, fonte di grande gioia, perché vuol dire che ho seminato qualcosa. Certo, Dorotea, ti posso dire che io quando correggevo le tesi con la matita, correzioni, sposta questo, quell'altro, dubbiamente, non posso pensare cosa possono aver pensato gli studenti di questo mio modo di correggere le loro tesi. Impiegavo anche tempo, non credere. Per me era un dovere morale, perché allo studente non dobbiamo dare delle aride nozioni, ma dobbiamo dare gli strumenti per poter affrontare poi il loro domani, ogni studente il suo domani. E di consenso io pensavo qual è il primo grande ostacolo, il primo concorso, l'esame d'avvocato, il magistrato, e allora anche per abituarli a far sì che un certo argomento sapessero organizzarlo al meglio per poter dare il meglio di sé in un concorso, in un esame. Tant'è vero che anche, esempio nell'esame, nel corso di laurea, quello magistrale, in giurisprudenza, ma fin dall'inizio, io l'ho sempre messo tra i programmi a scelta, dei programmi a scelta, ma non perché non fossi io sicura di quello che volessi far studiare ragazzi, ma proprio perché per poter riuscire a far uscire a loro le loro capacità critiche, organizzative. Anche perché ritengo che studiare un argomento che piace, Dorotea, dubbiamente aiuta a crescere maggiormente, quindi la mia vita è questa. Lei ci ha detto che la soddisfazione in questo momento è stata proprio quella di avere il sostegno, soprattutto da parte di studenti, invece cosa... Ma anche di colleghi, anche di colleghi, e veramente devo essere sincera, però proprio perché è quel sostegno vero, sentito, è giusto che rimanga nel silenzio del colloquio tra coloro che mi vogliono bene. Lei ha detto una cosa giusta prima, da un punto di vista mediatico non si è visto, però il sostegno l'ha avuto, da un punto di vista mediatico in effetti è venuta fuori un rettore un po' solo in questi momenti, almeno questa era l'impressione, stando a quello che abbiamo trasmesso da un punto di vista mediatico. Sì, è l'impressione che si è voluta dare, ovviamente, questa è l'impressione che presumo si sia voluto dare, perché anch'io ho letto sulla stampa. e vede, quando si ha un rapporto con l'Ateneo di quotidianità, di essere, diciamo, orgogliosi e grati, torno a ripetere, di servire quell'Ateneo, io sono andata avanti ugualmente nel lavoro che dovevo fare per le esigenze. Cosa ha fatto? Glielo posso chiedere? Ho lavorato, ho lavorato, ho lavorato. L'impressione era quella di una persona che doveva prendere una decisione e che magari stava lì a riflettere. No, lei ha... No, no, è un lavorato, ho lavorato, naturalmente... Quello che farà fino al 31 di notte. Certo, sicuramente. E naturalmente ho cercato anche di pensare, ma insomma, il dovere è il dovere. Mi è stato insegnato che il dovere prevale su tutto. E quindi anche, diciamo, questa campagna mediatica, io l'ho dovuta sempre vedere in correlazione al mio dovere. Qual era il mio dovere? Qual era il mio comportamento istituzionale nel rispetto delle istituzioni di tutti coloro che appartengono all'università? Quale messaggio anche di valori dovevo trasmettere agli studenti? E quindi è meglio, capito, ricevere, diciamo, subire certe situazioni piuttosto che non tenere presente quelli che sono i propri doveri. La decisione di lasciare l'ha presa proprio da sola o, per esempio, la sua famiglia o qualche persona a lei o una persona a lei vicina l'ha aiutata a decidere in tal senso? Naturalmente la mia famiglia, persone amiche, mi hanno aiutato a vedere il problema. Però la decisione l'ho presa di notte da sola qui a Teramo. Per il resto vivo più che non con la mia famiglia, pur essendo legatissima a una bellissima famiglia unita. e l'ho presa come dovevo prenderla da sola, perché il rapporto tra l'Ateneo e me è un rapporto esclusivamente mio. I sentimenti, le ragioni dovevano essere esaminate e dovevano essere il frutto di un mio, di una mia decisione, capito? Senza l'interferenza, sia pure, si immagini, della mia famiglia, ecco. In quel caso avrei ritenuta un'interferenza, anche perché forse loro avrebbero avuto da me un comportamento diverso, ecco. Invece no, quella è una decisione tutta mia, come era giusto che io la prendessi da sola, perché il rapporto tra l'Ateneo e me è un rapporto che esiste fra noi due, non attraverso altre persone. Dunque una decisione maturata, lei già sapeva quando è entrata, mezzogiorno e un quarto di qualche giorno fa, all'ultima seduta del Senato accademico, già sapeva cosa avrebbe comunicato. Non è maturata durante la discussione? No, assolutamente, no, durante la notte avevo preso la decisione finale, cioè certa, ragionata, non umorale né condizionata, ma semplicemente avevo gli strumenti, strumenti per poter rimanere, quegli strumenti però a me non piacevano per i 27 anni da prof nell'Ateneo di Teramo. Lei ha detto, e lo ha ribadito in una nostra intervista che abbiamo mandato al telegiornale, per questo so già cosa ha dichiarato, perché lo ha dichiarato a noi, ha detto, io non lascio l'università tra le lacrime, anche se un po' di commozione c'è, perché lascio comunque una parte della mia vita. Certo, perché che vuoi, Dorotea? Io in 27 anni ho creato tanti rapporti umani, tante persone, si è creato un rapporto di amicizia, di familiarità, che non posso non dimenticare, non si cancellano, i sentimenti non si cancellano come spugne. Sa, ho ricordato un po' tutto, ero in seduta di laurea, la telefonata di mia figlia, mamma, i medici dicono che nonna supera la crisi, ma secondo me nonna questa sera non ce la fa. E allora ho chiesto di poter anticipare l'esame di laurea dei miei laureandi, ho trovato un collega che gentilmente mi ha dato un passaggio per Roma e sono riuscita a arrivare prima che mamma, capito? Insomma, sono tutti episodi della... Che ti scorrono, capito? Che momenti ti scorrono, ecco. Cioè, io veramente sono vissuta qui a Teramo e continuerò a venire a Teramo perché ho dei punti di riferimento affettivi, di quotidianità, altro, che non si cancellano con una spugna. Immagini. Prima di salutarci, ci saluteremo, magari lei ci dirà cosa andrà a fare adesso quando tornerà a casa, oltre a stare magari più con suo marito, con sua figlia, ovviamente riuscirà a dedicare loro più tempo, però lei ha dei programmi già ben precisi. Prima vorrei un commento da parte proprio del rettore dell'Università degli Studi di Teramo, che fino al 31 di questo mese è la professoressa Rita Tranquilli Leali, alla vicenda legata a lezioni universitarie fittizie. La Guardia di Finanza, su disposizione di un magistrato, ha sequestrato una somma di 12 mila euro a tre docenti della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo. Per la verità sono due docenti e un ricercatore, indagati per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e di abuso d'ufficio aggravato e continuato, i fatti risalirebbero agli anni accademici che vanno dal 2009 al 2011. Sono fatti che non possono che rattristarmi, anche se le modalità dell'attività di servizio, di insegnamento in ambito universitario rispondono a regole diverse da quella di un normale rapporto di pubblico impiego, tuttavia proprio perché sono prof, ho detto che mi sento soprattutto prof e mi dispiace, tuttavia devo anche dire che la didattica è di competenza dei presidi. In merito sempre alla vicenda, la Procura ha disposto il sequestro cosiddetto per equivalente provvedimento cautelativo nei confronti della pubblica amministrazione in vista della prosecuzione dell'indagine giudiziaria. Dunque le indagini vanno avanti. Pieno rispetto, sono una giurista e quindi fin da figlia di un avvocato di conseguenza sono stata abituata, sono cresciuta nel rispetto della magistratura e quindi non posso che dire che ovviamente ora teneremo quello che stabilirà la magistratura. sono cresciuta nel pieno rispetto della magistratura e anche in questa occasione non posso che ribadire il mio pieno rispetto e quindi la fiducia nella magistratura perché è ovvio che io mi auguro che poi questi fatti possano essere ridimensionati ma qui non parlo tanto da rettore quanto da appartenente all'Università di Teramo. Professoressa, cosa farà dal primo novembre? Io ho sempre, ho avuto sempre mille interessi. Il diritto, l'ambiente, il diritto mi è sempre piaciuto. Il diritto della navigazione mi ha appassionato quindi non mi siederò. Sì, la famiglia, ma voglio dire anche la famiglia. Io riprenderò appieno i miei studi devo completare il mio libro sui porti turistici ho il problema appunto delle utilizzazioni delle manioli e concessioni nei maniali e maritti ma di tante altre problematiche del diritto della navigazione e poi anche se ne avrò voglia c'è sempre, come ti avevo detto una scrivania e una poltrona nello studio di famiglia quindi ho anche quella scienza però ti confesso ho anche un altro desiderio che purtroppo non ho avuto mai tempo poi l'ho abbandonato riprendere a dipingere perché uno parla con se stesso ritrova sempre quel rapporto vero con la vita, quella serenità quindi tra i tanti miei progetti dice anche quello di riprendere a dipingere tra un libro, un articolo e l'altro sul diritto della navigazione Allora intanto noi ci terremo in contatto fino al 31 perché lei per noi è ancora e ovviamente lo sarà fino a che non andrà via il riferimento per l'Università degli Studi di Tempo voglio dire in chiusura intanto le faccio un grande in bocca al lupo per tutti i progetti che ci ha appena illustrato e poi voglio dire proprio a mio parere personale faccio questo mestiere da 20 anni e davvero ne ho viste pochissime ma veramente poche forse non le conto perché sono su una mano sull'idea di una mano si possono contare di donne al potere utilizziamo questo termine che poi è brutto per la verità però è una realtà di donne al potere in provincia di Teramo il rettore era finalmente una di queste pochissime donne al potere molto tra virgolette insomma perché è un termine che non ci piace e dal 31 ottobre non ci sarà più non so chi sarà il suo successore magari sarà una donna non lo sappiamo lo sapremo credo tra qualche mese però intanto la donna c'era e dal 31 ottobre poi non ci sarà più e come donna a prescindere dalle vicende dalla sua gestione dell'università ovviamente non spetta a noi che facciamo questo mestiere né giudicare né intervenire nel merito di quello che è successo non riportiamo i fatti come donna voglio dire che però insomma mi dispiace ti ringrazio tanto Dorotea e mi dispiace perché veramente io ti ho subito tanto apprezzato a Teleponte appunto anche il nuovo direttore gli auguri proprio più affettuosi sempre da Magliora di tanto successo a tutti coloro che collaborano con Teleponte però un pizzico di dispiacere ce l'ho non nei confronti i tuoi che il territorio non ha capito quanto in realtà ho lavorato ma proprio perché i singoli cittadini potessero avere un qualche vantaggio e devo dire che non sempre sono stata capita perché per me non esiste l'entità giuridica esistono le persone che consentono l'esistenza di quell'entità quindi grazie anche per l'affetto Dorotea che hai dimostrato e grazie a Teleponte grazie grazie anche a lei grazie buon lavoro professoressa grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito grazie assolutamente grazie a voi e buon lavoro Dorotea grazie noi adesso andiamo in pubblicità e poi la nostra rubrica Blog Notice nuovo appuntamento con Blog Notice Quante volte ci siamo sentite golfe di infacciate come Bridget Jones questa puntata è dedicata a tutte le donne che vogliono cambiare e sentirsi ogni giorno più belle la soluzione c'è perché oggi parliamo di make up le guardiamo e non possiamo che invidiarle bellezze e mozzafiato praticamente perfette ma la prova pigiama non perdona anche loro in fondo sono donne normali basta un piccolo aiutino per essere più belle oggi a Blog Notice abbiamo due make up artist scopriamo insieme a colpi di mascara come due donne comuni possono cambiare eccoci di nuovo insieme avete sentito avete anche visto alla fine due donne comuni come me e come Giorgia come possono cambiare grazie alle mani esperte dei nostri ospiti che sono Bruno e Orazio grazie per essere venuti e soprattutto vi ringrazieremo voi alla fine quando ci trasformerete come le bellissime donne che abbiamo visto nella clip che hai preparato ciao Giorgia buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti allora siamo pronte inizio io vediamo cosa succede oggi non mi sono truccata quindi vorrei un attimo sistemarmi anche io oggi secondo me l'avranno notato tutti non mi sono sei bellissima lo stesso a parte la base l'effetto nudo con un po' di mascara non mi sono messa niente benissimo ci siamo anche proprio noi apposta io vi aspettavo così ho fatto la prima parte della trasmissione con una faccia poi la seconda parte la farò con un'altra faccia anche così io devo precisare che sono una gran rompiscatole perché loro mi conoscono e sanno che non amo molto il trucco esagerato però oggi ho dato carta bianca la fate voi allora cominciamo subito così avranno tempo di truccare la nostra Giorgia intanto e ci spiegate anche che tipo di trucco farete su Giorgia tra breve perché abbiamo detto in apertura che oggi intanto vi è dedicata agli occhi esattamente diciamo che il trucco degli occhi come il segmento del viso come quello delle labbra ha un ruolo molto importante all'interno del del trucco in generale e se le labbra rappresentano la dimensione in qualche modo più sensuale e passionale della donna gli occhi invece rappresentano l'aspetto più emotivo spirituale interiore di una donna che ovviamente truccandosi tutti i giorni o in maniera conscia o inconscia emette dei messaggi al mondo esterno che possono essere quelli di non so manifestare un desiderio di seduzione di mistero o manifestare la propria identità il suo carisma il suo fascino quindi la sua allure per cui anche questo è una cosa molto importante tanto facciamo anche spieghiamo cosa stiamo vedendo benissimo il primo passaggio che facciamo è quello di un primer adesso grazie a Clio Makeup che ci ha fatto conoscere questo aspetto fondamentale il primer è un prodotto che serve prima del trucco per poter far durare di più il trucco degli occhi e dare un effetto di maggiore luminosità in generale i trucchi spesso fanno uso di primer sia per specifico per gli occhi ma anche per il viso quindi diciamo ha un ruolo fondamentale posso farlo perché adesso comincio a tirare fuori tutti i difetti che poi vedo su di me quando mi trucco per esempio grazie a questo prodotto il trucco non va dentro le rughette che abbiamo sotto gli occhi almeno che io ho sotto gli occhi perché ho una certa età con le linee di espressione esatto siccome a una certa ora il mio trucco va a finire dentro le linee di espressione a monte bisognerebbe sempre pensare a una perfetta idratazione del viso in particolar modo degli occhi tenendo conto che la zona del contorno occhi è 15 volte più sottile del resto del viso infatti ci sono prodotti specifici esatto proprio specifici ovviamente i primer hanno anche questa funzione quello dell'effetto filler è un effetto riempitivo per cui riempie molto bene la zona e quindi permette poi a correttori illuminatori e poi le polveri o le creme che possiamo utilizzare nel trucco di durare in maniera più lunga e ovviamente avere un effetto più luminoso dunque questa è la base nel frattempo io noto che di solito mi hanno già messa come prima cosa mettevo l'ombretto invece sono cos'è tre minuti che lui mi sta mettendo di tutto ma non ho ancora messo l'ombretto va bene bene è incoraggiato proprio per insegnarci come è truccato ecco ecco in questo momento ora ci sta invece utilizzando un correttore illuminatore cosiddetto chiamato douche clas che ti permette di illuminare proprio la zona del contorno occhi quindi uniformare tutte quelle che sono le parti dell'occhio e quindi eliminando le zone d'ombra in modo tale che poi quando vai a applicare un colore rimarrà steso in maniera bella omogenea e uniforme io sto capendo che mi posso buttare dalla finestra io non ho fatto nulla di tutto oggi ti insegneremo a vedere anzi a truccare l'occhio con le dita cioè le donne io non sono capace di utilizzare i pennellini per cui o con le dita o non mi trucco benissimo il modo più valido per iniziare proprio a truccare gli occhi è quello di utilizzare le dita e non avere paura anche perché oggi in commercio ci sono molti prodotti che sono adatti alle donne maldestre che non si sanno truccare quindi vedi in tutti questi prodotti ho proprio i pennelli che vediamo io ci sono i pennelli non servono a niente tutti quei pennelli piccolo grande no no quelli sono sicuramente utili magari anche per definire in un secondo momento però se vogliamo fare un trucco al semaforo anche se insomma sarebbe poco corretto possiamo tranquillamente utilizzare proprio le dita come sta facendo ecco Orazio quindi utilizzando oggi faremo proprio un esercizio molto semplice utilizzando esclusivamente due colori uno chiaro uno scuro ma gli stessi colori li utilizzate sia per me che per lei oppure ci sono colori adatti a ogni occhio lei ha degli occhi sull'azzurro azzurro verde sicuramente saranno dei colori gangianti perché a seconda della luce io non mi sono mai truccata in televisione con i colori forti per cui oggi se mi stravolgete magari scopro che mi piaccio poi dovete venire tutte le volte ovvero tutti i giorni a truccarmi perché io non sono capace poi di truccarmi no ma è semplicissimo vedrai un giorno ti farò fare una lezione di autotrucco e vedrai che è semplicissimo è una vita che faccio questo mestiere ma ho sempre come si dice il trucco fai da te perché io tra l'altro lo devo ammettere lo ammetto quando non sono in onda normalmente non mi trucco uso solo un po' di mascara e mi piacciono i rossetti per cui insomma con i lineamenti un po' forti che ho se mi metto il rossetto forte e mi trucco anche gli occhi forti sicuramente però diciamo che hai fatto una scelta armonica perché ovviamente hai selezionato una parte sulla quale focalizzare la propria fisionomia cioè quella delle labbra poi ovviamente sei fortunato perché c'è un bel taglio d'occhi quindi di conseguenza è facilissimo insomma lavorare su di te in questo momento ecco ho utilizzato questa base proprio in polvere luminosissima abbiamo scelto un verde per lei perché questo verde perché il suo colore di capello è tendenzialmente sul rosso e quindi il colore complementare del rosso è il verde in questo modo si crea un accordo armonico questo potrebbe essere una delle motivazioni per poter io quando tento il verde sembro proprio mi calo negli anni 80 è una cosa orrenda non riesco a fare ma tu bisogna vedere come riesci a mettere il verde sui occhi potevamo utilizzare un effetto fluo di verde invece del verde sotto tono conoscendo mi sai conoscendo di proprio va bene non era male però uno deve usare una volta nella vita si può usare noi abbiamo avuto il piacere o la fortuna di truccarla quando si è sposata e vi dico quello che è successo non volevano scappare ogni minimo prodotto che applicavamo sulla sua palpebra le chiedeva che cos'era quando l'intensità ci doveva stare mi sono tolta l'ossetto prima di entrare in chiesa le torturavi si capita le donne io le chiamo le donne ficciuse sperando no ma perché io no perché io non voglio usare ho paura capito di sembrare un mascherone ma Giorgia è anche molto diciamo anche amorevole quando puoi fare ecco queste richieste adesso ecco stiamo facendo il secondo passaggio che è il colore più scuro abbiamo applicato il colore più chiaro su tutta quanta la parte mobile dell'occhio partendo dall'interno verso l'esterno scaricandolo sempre verso l'alto anche e usando proprio i polpastrelli che ci permettono di in qualche modo fondere molto bene il pigmento sulla pelle invece adesso facciamo il passaggio opposto utilizziamo il mignolo e depositiamo il colore all'esterno della palpebra superiore e andiamo verso l'interno in modo tale che i due colori sfumandosi danno questo effetto armonico che rende l'occhio più grande e le ciglia anche più folte quindi già questo ci dà un effetto di un occhio molto più grande e molto armonico all'esterno incorporate alle dita perché io pensavo di avere un pennellino sull'occhio invece lo stai facendo con le dita ovviamente diciamo è sconsigliato per chi usa le unghie ricostruite o quant'altro comunque lunghe perché vorrebbe essere un po' pericoloso però ecco su un'unghia normale si può tranquillamente fare dunque dopo il prossimo passaggio dopo l'ombretto sì cosa andremo a mettere nell'ultimo giorno già per un trucco di tutti i giorni potrebbe andare bene anche solo questo tipo di abbinamento senza maschera magari lo mettiamo dopo però poi proviamo a definire maggiormente la linea di attaccatura delle ciglia con una matita adesso ci sono matite in commercio io la odio questa roba solo sopra perché io sotto la odio poi lacrimo diventa un mascherone va bene tanto dura poco lo spazio non farai in tempo a diventare un mascherone dopo devi andare se devi venire qui sotto tortura potrai soffrire in silenzio va bene lacrimerai dopo devo leggere anche i messaggi delle mie lettrici quando truccheranno me tu leggerai i messaggi va bene anche perché abbiamo scoperto come far sta zitta Giorgia cioè non ho capito mi devo offendere no perché io sono una gran chiacchierona tu lo sei come me dunque va bene dopo quando però ti voglio vedere all'opera quando sarò io chiacchiererò però non entrate in competizione perché avete due intensità di rumore possiamo dire così in termini proprio parlare sopra esatto potete sovrapporvi preciso ecco la matita qui la matita nera matita in questa cosa l'abbiamo scelta tono su tono quindi un verde bosco che tra l'altro è anche la tendenza di quest'anno diciamo che la tendenza del make up di quest'anno è soprattutto con questi colori che vanno dal verde sotto tono al kaki al verde bosco al bronzo che in qualche modo risultano abbastanza naturali e si possono adattare un po' su tutte le donne su qualsiasi tipo di fisionomia è diciamo una variazione del nudo solamente che mentre il nudo si orienta più sui toni diciamo del crema del beige del vaniglia il verde riprende questi toni questa intensità però non esagera mai come può essere un nero come può essere anche un blu il mio sogno è l'effetto nudo pelle perfetta ecco questa è una delle tendenze non vent'anni vabbè ma c'è anche un bel viso non hai linee espressione accentuate quindi assolutamente anzi tranquillamente utilizzando ecco questi toni lavorando molto bene anche però sull'incarnato quindi su una scelta di fondotinta di cipra di illuminanti lì ci vorrebbe uno esperto che mi consiglia però ci sono in commercio ecco dei prodotti facilmente utilizzabili anche da sole che danno questo effetto fantastico per me deve essere matt per esempio non sopporto il viso lucido per il lavoro che faccio io e non per nella quotidianità anzi un po' di lucido dà un po' di luce una delle opzioni per questa esigenza per esempio invece di utilizzare una cipra libera in polvere o quantomeno diciamo una cipra compatta si può utilizzare un compatto in polvere un fondotina compatto in polvere applicato però col pennello questo garantisce un effetto non maschera nello stesso tempo anche un effetto esatto diciamo che il pennello distribuito in maniera bella uniforme ti permette di avere un effetto nudo quasi impercettibile però c'è questo effetto un po' cipriato che rende armonico tutto l'insieme che è quello che piace a me che ogni tanto mi faccio la maschera perché metto la cipria per non essere lucida e dopo le rughe d'espressione tra l'altro adesso ci sono ecco dei prodotti in polvere che hanno questi principi attivi umittanti come per esempio l'acqua oligominerale che ha un effetto energizzante l'estatto di palma di dattero che ti permettono proprio di opacizzare dovrebbe passare una giornata intera davanti allo specchio no no assolutamente guarda si prende più tempo a parlarne che a farlo perché poi alla fine ti metti davanti allo specchio metti il fondotinta lo misceli con la crema lo applichi passi questo compatto sopra e sei già in ottima luminosità io metto il mascara ho finito così posso leggere qualcosa allora mettiamo il mascara così poi andiamo in pubblicità e quando rientreremo poi leggeremo mamma mia aspetta andiamo in pubblicità che sono sì ma che mi cavano un occhio ha deciso lei andiamo in pubblicità va sì una fase importante poi la vediamo dopo le sopracciglia che sono le cornici del volto una fase banale però rende proprio l'idea pubblicità è arrivato il mio momento tra breve diventerò bellissima come la nostra Giorgia intanto io non mi sono vista no non ti sei molto bella poi non ho capito perché ti lamentavi e dicevi no il verde no il verde no il verde è il colore tuo perché hanno ragione come lo metto io ti assicuro no prossima volta mi trucco da sola mi metto il verde poi vediamo sì ma noi non abbiamo la giusta percezione di quello che siamo e di come dobbiamo sistemarci a volte ci convinciamo e voi mi potete confermare di cose che non sono reali per esempio io sono convinta di non star bene con il celeste negli occhi e magari invece tu sei convinta che il trucco scuro non ti sta bene invece tu hai dei lineamenti che secondo me potresti permetterti come si chiama quello nero che si usa è meraviglioso però sta bene alle donne che hanno i lineamenti delicati non è detto non è detto ecco in realtà è un falso mito è la mia convinzione come avete visto è un falso mito che mi porto dietro anche io diciamo che questo Smokin'Eyes ormai è diventato di casa perché dopo circa vent'anni di utilizzo è stata in realtà scena che ha la ripresa della cultura punk e rock e poi l'ha rilaborata anche sulle labbra oltre che sugli occhi vogliamo leggere prima di iniziare qua il restauro dunque Katia scrive il mascara allungaciglia è una bufala o funziona davvero? secondo me sì certo noi non siamo in grado di allora in realtà quando si sceglie si va in profumeria e si sceglie un mascara bisogna scegliere con questo tipo di preparativa scusa se ti interrompo iniziamo perché se no non riusciamo qui ci sta da lavorare forte mi raccomando non voglio vedere più una ruga da nessuna parte sì prego i mascara allunganti sono prevalentemente caratterizzati da una struttura fluida nella crema quindi non eccessivamente cremosi e delle setole piuttosto separate che permettono di pettinare e quindi curvare allungare meglio le ciglia però se ce n'è due di ciglia non è che diventano 15 assolutamente ci sono perché tu pensa che ci sono delle ciglia trasparenti che vengono messe proprio in evidenza grazie a delle setoline che ci sono sui mascara che sono in un silicone particolare che si chiama elastomero e che riesce a pettinare proprio a riuscire a trovare risorse dove ovviamente non ci sono ciglia quindi funzionano come no anche tu per esempio sembra io ne ho poco sono chiare in realtà tu le hai solamente che molte sono trasparenti e quindi non sono visibili a occhio nudo se non sono colorate col mascara quindi funzionano come no l'importante è che se non sono tantissime ciglia non scegli un mascara troppo cremoso poi anche qui il mascara è molto soggettivo perché ci sono donne che per esempio anche se hanno tra virgolette due ciglia vogliono comunque un effetto macchia e l'effetto macchia te le metti finte e fai prima no più che altro vogliono proprio il nero magari non gli importa che le ciglia siano unite che siano tutte quante come si dice definite separate esatto però è soggettivo quindi se la cliente vuole quello noi ovviamente consigliamo quello perfetto poi c'è Francesca che scrive quali sono i prodotti base cioè quelli che non possono assolutamente mancare per il trucco dell'occhio partiamo da persone comuni che hanno una trussa normale cioè che non si mettono tutte quelle cose che ha messo racchi i prodotti proprio base per un incapace come me il primo approccio è allora diciamo che forse tre cose che sono anzi quattro adesso esagero allora un correttore un illuminatore per esaltare schiarire la zona con il contorno occhi io per esempio però non ho tantissimi occhiaie magari chiare e non ho il grigio sotto l'occhio ho l'occhio bianco però sai cosa succede che di solito in qualsiasi ambiente dove tu vai la luce leggendo dall'alto crea delle ombre anche sotto gli occhi anche se tu non hai occhiaie di solito si dovrebbe consigliare un tono più chiaro del resto del viso perché poi quando noi ci vediamo frontalmente vediamo queste zone d'ombra che sono create proprio dall'ombra della fronte quindi andrebbe utilizzato questo prodotto poi ovviamente se non abbiamo queste esigenze e vogliamo mantenere la natura l'occhio va benissimo quindi il correttore uno poi un ombretto base che è un color crema pesca comunque un ombretto chiaro non eccessivamente ridecente né troppo bianco e una matita quindi tre dai esatto e il mascara o io mi vengo rilassando sapete che sto veramente dimenticando che siamo in una trasmissione televisiva io non mi niente io non so nulla quindi se bisogna fare altro mi fanno sapere perché se non ti chiacchierare fino a quando non mi senti significa che va bene perfetto allora leggo un altro messaggio intanto Razio mi sta facendo insomma segnalando la scelta del colore giustamente che ho utilizzato per Dorotea questi sono i colori che amo io il marrone le tonalità del marrone che proprio in estremo il rosso ma un rosso sì sì vanno molto bene con l'occhio diciamo che tendenzialmente è azzurro perché gioca sulla teoria dei colori complementari no aspetta l'azzurro te l'ho spiegato l'altra volta perché avevo una matita azzurra ultimamente anche l'argento però spesso ti metti no? no è il bianco una matita bianca va bene la matita bianca ecco ecco cosa volevo sapere io avendo l'occhio piccolino sento spesso dire che la matita bianca all'interno può ingrandirlo ma su di me fa un effetto malaticcia proprio diciamo che la matita bianca dà un effetto un po' più freddo quindi si consiglia io consiglio per esempio sempre questa matita color burro già questo termine tecnico burro che ci fa capire che insomma è un color crema in realtà però se tu non crei una bordatura intorno all'occhio tu puoi mettere anche la matita cagiale all'interno però se non crei bordatura scura cioè matita cagiale che vuol dire qua stiamo parlando è una matita che si mette esclusivamente all'interno dell'occhio ah perché cagiale non si mette anche sopra la matita nera non si chiama cagiale in generale no diciamo che c'è una matita che ha una doppia funzione però di solito la cagiale è più morbida ah ok se tu te la metti all'esterno dopo un quarto d'ora soprattutto se fa molto caldo si scioglie si scioglie avrai tutto l'effetto occhiaia ho capito quindi consiglio di averlo all'interno guardate io già la vedo la differenza perché poi sono abituata a vedermi nelle riprese questo ecco mi piace il chiaro suono il che caclava ok e già ho trovato la prima cosa che andrò a modificare nel mio make up quotidiano ogni puntata adesso passiamo prima da loro ebbene sì ma in realtà Giorgia fa finta di essere una falsa modessa ma sa più di noi alla fine io di trucco sicuramente loro hanno vabbè adesso lo posso dire hanno una profumeria tanto la sanno tutti che ci stanno guardando sotto casa dei miei genitori e quando ero piccola io passavo i pomeriggi lì dentro a provare tutto e di più io tuttora vado da loro e mi compro le cose più assurde tipo l'illuminante di perle che si rompono e diventano brillanti in fai sul viso sono cose pazzesche e poi non metto però sono bello hanno avuto una fase sul profumo ti ricordi? il profumo delle fragranze speciali io volevo il profumo personalizzato cioè quello che ho solo io a Teramo quindi andavo da lui e dicevo dammi il profumo che non ho comprato nessuno erano delle fetecchie di solito o quelli costosissimi costosissimi che magari però alla fine ho trovato il profumo della mia vita non lo dico perché sennò poi mi rubano leggo un altro messaggio? come no sì allora dunque Elisa scrive io che odio il fondotinta l'anno scorso ho scoperto la BB cream e ora sono una di quelle no uso solo quella uniforma l'incarnato recita l'etichetta ed è vero perché è leggerissima ed è una svolta per me tu cosa ne pensi della BB cream? anche io la uso beh sì è la moda del momento è stato uno strumento per avvicinare la cliente al fondotinta il fondotinta è molto importante in un trucco non solo per l'aspetto diciamo tipicamente estetico cioè quello di dare uniformità luminosità alla pelle ma anche perché ha un'azione di trattamento cioè protegge la pelle dagli agenti esterni smog radiazioni solari polvere e quant'altro e in più idrata ma devi sempre mettere una crema idratante sotto il fondotinta sempre diciamo che la BB cream invece no nasce anche diciamo con questo scopo di idratare e nello stesso tempo anche uniformare però in realtà è sempre consigliabile mettere un idratante sotto è studiato anche per chi proprio non si mette nulla allora ecco tipo me meglio di niente almeno di mettico è la BB cream che comunque nasce negli anni 60 è proposta da molti dermatologi e come mai adesso c'è il boom dall'anno scorso perché ogni tanto resumano sempre qualcosa di antico e lo propongono come nuovo e quindi noi che magari abbiamo un po' di esperienza sapete in realtà a volte ci propongono un prodotto nuovo come qualcosa di fantasmagorico e poi magari alla fine presentato in un altro modo per esempio adesso si parla tantissimo di primer il primer è sempre esistito solamente che magari prima se lo proponevi diciamo un prodotto in più mi devo mettere poi hanno visto il beneficio e si sono resi conto che ma secondo te quindi questo primer è fondamentale fantastico sì bisogna averlo io l'ho visto l'ho visto è fondamentale io non lo sapevo fino a mo' che era fondamentale anche io sto verso il nostro però tuttora non ce l'ho anche in ferramenta ci sono i catalizzatori primer quindi vedi da lì arriviamo poi alla cosmetica quindi piano piano ecco il mondo di colori è lo stesso ragazzi prima di arrivare alla fine del mio trucco andiamo ad ascoltarci una bella canzone della nostra Elisa che ci ha ascoltato con gran interesse sì per forza l'hai visto questo prodotto? ho visto ma l'hai visto? ho seguito attentamente tutti i passaggi poi ho ascoltato con molto piacere tutte le spiegazioni che ci dava anzi ringrazio perché come voi mi sento profondamente ignorante nonostante sia donna oppure noi io dico noi tu in particolare che fai un mestiere di grande visibilità vai a cantare queste cose sei un artista per cui l'artista insomma queste cose le dovrebbe conoscere magari più di noi è vero hai ragione è vero che sei una donna pratica ecco bravo io oramai ti conosco da anni mi posso permettere di dire quello che sei però adesso voi ci dovete organizzare stasera una festa da ballo per forza dopo un trucco così che mi faccio andiamo a cena io ho un trucco di questo allora ripeto mi trucco pochissimo mi trucco solo quando sono in televisione mai in maniera così accurata se non quando si è sposata si sono sposate i miei parenti strettissimi perché se si sposa magari un'amica o qualcuno mi trucco da sola per cui mi sarò truccata così e con tutti questi prodotti in vita mia penso 5-6 volte dunque io stasera posso andare a dormire assolutamente non puoi sprecare questa allora fai un appello a tutti quelli che ci sono qua a ballare il mercoledì sera a ballare cosa ci cantate così finiamo il restauro beh una canzone che potrebbe essere attivante besame muccio visto con questo sguardo così accattivante affascinante potrebbe essere un invito tutto merito tutto merito loro anzi suo in questo caso l'acqua è una canzone l'acqua è una canzone l'acqua è una canzone che la ultima messe bezzame oh bezzame muccio che tendo merò perderte perderte che tendo che tendo che tendo Oh, bésame molto Che tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerti molto cerca, mirarmi in tus occhi Sperte giunta mia Piensa che tal vez mañana Io vi essere legios, molto legiosi di ti Bésame, bésame molto Come se fuori questa notte la ultima vez Bésame, oh, bésame molto Che tengo miedo perderte, perderte otra vez Música Quiero tenerti molto cerca, mirarmi in tus occhi Quiero tenerti molto cerca, mirarmi in tus occhi Verte giunta mia Piensa che tal vez mañana Io vi essere legios, molto legiosi di ti Bésame, bésame molto Come se fuori questa notte la ultima vez Bésame, oh, bésame molto Che tengo miedo perderte, perderte otra vez Perderte otra vez Perderte otra vez Avete indovinato poi tra l'altro i colori che mi piacciono Ma d'altronde, insomma, avete visto i miei colori Evidentemente avete capito che erano quelli più adatti a me Io vi vorrei qui tutti i giorni La mattina passata La mattina passata Mi date una bella restaurata E poi ci prendiamo un caffè Comincia così meglio la giornata Perché davvero mi sono sentita Ti ringrazio ovviamente per averli portati Ringrazio soprattutto Mi sono sentita davvero coccolata E dunque vi invito una prossima volta Magari ci dedichiamo ad un'altra parte del viso Ad esempio alle labbra Anche se qualcosa ci hanno detto su come realizzare la base La cosa più importante di un trucco Ragazzi, grazie davvero di cuore Grazie a voi Lui è di Buenos Aires Ha incorporato il pennello nelle dita Perché è praticamente davvero le setole Perché davvero, come diceva Giorgia Sembrava di avere Vabbè ma sono dei professionisti Grande rispetto Grazie, grazie di cuore Giorgia, noi ci vediamo Mercoledì E che cosa ci sistemiamo mercoledì? Adesso io mi ci posso abituare Ah, ci vogliamo chiamare una parrucchiera Non so Ci rimettiamo a no Ci facciamo una ceretta No, mercoledì ritorniamo un po' Sulle cose più Pratiche Pratiche Sì, sì Cose tranquille Ok? Ma questa a me è piaciuta tantissimo Anche a me Infatti invitiamo sicuramente Grazie, grazie di cuore Grazie a voi Noi andiamo in pubblicità E poi E poi ci sarà il Enrico Vazzarelli Eccoci di nuovo insieme Saluto e ringrazio Enrico Mazzarelli Segretario della Presidenza Della Giunta Regionale d'Abruzzo Buonasera Buonasera Benvenuto Buonasera Buonasera Che Berlusconi Che Berlusconi abbia una simpatia per il Governatore della Regione Abruzzo è noto Addirittura Visto che si è tirato indietro Io Al di là di Lei è il braccio destro Al di là di tutto Credo che sia un grande riconoscimento Ora Metterci a fare ipotesi Metterci a dare numeri percentuali Sarebbe assolutamente fuori luogo Però se lei parla di riconoscimento significa che comunque Credo che sia stato un grande riconoscimento da parte del centrodestra del PDL Per l'attività che Chiodi ha svolto come Presidente della Regione Come Governatore della Regione Abruzzo Dunque c'è stato un contatto ufficiale Finora si è parlato di fantapolitica ma il nome ha continuato a circolare Il fatto che circoli il nome è di per sé già significativo di questo Cioè il che comunque c'è apprezzamento ai massimi livelli del centrodestra italiano Per il lavoro che ha fatto Chiodi in Abruzzo E credo che in questo momento particolare sia L'argomento Più diciamo Proponibile Più sottoponibile All'attenzione della gente Perché giustamente Quello che si vede Nell'ambito della politica Ma anche delle politiche regionali E' oggettivamente urticante Sentire cifre che vengono tirate fuori Sembrano numeri dell'otto Poi in realtà invece sono soldi veri Che vengono spesi, utilizzati Più o meno legittimamente Ma comunque senza venticontazione Senza controlli Senza quegli aspetti che Comunque credo siano obbligatori Per chi ha amministrato a nuovo pubblico E che questo avvenga Tra l'altro anche in zone molto vicine a noi E non avvenga In Abruzzo Dove un determinato tipo di percorso È stato iniziato da questa Voglio dire da questo Consiglio regionale Perché è bene Dire le cose con grande chiarezza Credo che sia un aspetto di grande merito Per la nostra gente Credo che per una volta Poter dire, poter sentire Nelle trasmissioni televisive nazionali Che la regione Abruzzo Per quegli aspetti che di più Diventano odiosi per la gente Viene presa come modello Per un comportamento virtuoso Credo che sia un aspetto molto positivo Voglio dire È stato fatto in tempi non sospetti È stato fatto prima Che il governo partisse in questa Definirei quasi forse una crociata Contro l'impostazione del titolo quinto Della sostituzione E della Costituzione Ma forse perché è appunto determinata Da questi aspetti di degenerazione del sistema Che certamente hanno imposto un intervento Parliamo sempre di politica La domanda non è su Chiodi Ma è su di lei Lei pensa che Di avere un futuro politico Oppure resterà Amico Braccio destro di Chiodi Oppure prenderà il posto Posso fare una battuta Vista la voce che circola Magari di Gianni Letta Io credo che Si metterà in politica in prima persona O continuerà a seguire nella sua carriera Gianni Chiodi Quello che è vero oggi non è vero domani Ci si va a dormire convinti di una cosa E una notte cambia completamente lo scenario Lei in questo momento che convenzione ha? Io credo che oggi Noi dobbiamo ragionevolmente pensare a quello che è lo scenario Quindi prospettare sulle situazioni concrete Le migliori risposte Continuare a lavorare Continuare a cercare Di portare avanti quel programma Quel progetto per il quale la gente D'Abruzzo ha votato Chiodi E per il quale oggi abbiamo dei riconoscimenti Che fino a due mesi fa non esistevano Cercare di tradurre Ancor più concretamente Ancor più in realtà Lo straordinario risultato Che si è ottenuto nel campo della sanità Perché un risultato che forse in questo momento Viene sottovalutato Viene lasciato solo nell'ambito della politica sanitaria Bisogna dare alla gente La sensazione di cosa significa Il riequilibrio della sanità a Bruzzo Cioè di quali sono i benefici concreti per la gente Perché altrimenti Rimane un'esercitazione teorica Invece poter dire Che se compriamo nuovi macchinari È perché abbiamo risorse Individuate attraverso Quel risanamento Se possiamo arrivare oggi A rimpiazzare personale medico e paramedico È perché Abbiamo ottenuto quel risultato Se abbiamo la prospettiva Anche di ridurre le tasse Dicendo quelle odiose accise Dalla testa degli abruzzesi E per questo risultato Altre regioni stanno facendo il percorso opposto Cioè la regione toscana sta mettendo tasse Perché va in disavanzo sanitario Allora questo credo che sia il compito oggi Che spetta a noi E vedere poi che succederà Aspettare serenamente Che lo scenario politico nazionale Si chiarisca Vedere quali saranno le prospettive sui territori Ma non è che si vota tra tre anni No, si vota tra sei mesi Però se dicevamo che una notte in politica è un'eternità Figuriamoci qualche mese Quindi credo che oggi l'obiettivo sia quello Non perdersi dietro disegni Che qualcuno può definire forse anche sogni Se non utopie Ma ragionare sul concreto E continuare a lavorare Su quelli che sono gli obiettivi Programmi della regione Però l'intanto non mi ha risposto Beh ma è quello Non c'è tempo Non abbiamo Non abbiamo al momento Veramente non è in agenda Pensare a che cosa succederà Alle elezioni politiche Le elezioni politiche Dovremmo affrontarle con la determinazione Che compete a chi è parte politica Nella speranza di ottenere il miglior risultato possibile Ma soprattutto In prospettiva di quelle che saranno le prossime regionali Per portare a casa il risultato Determinato dall'andamento di questi anni Questi anni che credo E lo voglio dire ancora Hanno portato dei risultati straordinari Noi con la consigliatura attuale L'unica che lascerà un debito inferiore Rispetto a quello che ha trovato Un debito in testa agli abruzzesi inferiore Vado a memoria Ma di qualcosa come il 25% Veramente non poco Che ha operato Tutta una serie di tagli A situazioni che sono oggettivamente odiose Ma non mi riferisco solo Al vitalizio dei consiglieri regionali Che la regione Abruzzo Ha abolito prima Tra l'altro ci sarà anche La riduzione dei consiglieri La riduzione dei consiglieri Ma anche la riduzione di tutte quelle poltrone Di sottogoverno Attraverso i commissariamenti In maniera da eliminare Mi sembra qualcosa Intorno ai 200 posti Destinati al sottogoverno della politica Cioè dare un segnale importante Di come si possa risanare Attraverso una politica Che dovrebbe Avrebbe dovuto essere E dovrebbe essere Quella del governo Monti Voi Monti Al di là di Questi sono adesso Per il momento Non è fantapolitica Perché secondo me qualcosa di vero Però per il momento Sono illazioni Perché non c'è nulla di ufficiale Ovvero questi nomi che circolano Almeno per quanto riguarda Il centrodestra Come candidati a Premier Voi come Schieramento politico Come invece vedete La candidatura di Monti Eventualmente a Premier Io Dal punto di vista personale Credo che il lavoro Che avrebbe dovuto svolgere Che parzialmente Sta svolgendo Il governo Monti C'è qualcuno Che lo vede anche In maniera più positiva È un tipo di lavoro Che difficilmente Sarebbe stato Alla portata Di un governo politico Perché è obiettivamente Ci sarebbe stata La rivolta popolare Obiettivamente difficile Dover gestire Queste situazioni Con una serie Di proposizioni Di norme Che indubbiamente Vanno ad incidere Sul benessere attuale Sulle finanze Attuali Vida in maniera Indiscriminata Su tutti i consumatori Quindi anche Sulle fasce deboli E questo forse Mi fa un po' pensare Certo Alcune cose Di un governo tecnico Non sono riuscito A comprenderle Perché un governo tecnico Si sia imbucato di testa Nella storia Degli accorpamenti Degli accorpamenti In altre province In altre province Senza riuscire a dire Almeno che cosa Che fine fanno I servizi Ma tutte quelle strutture Sul territorio Che in Italia Hanno una storica definizione Provincia per provincia Quindi noi non sappiamo Per esempio Che cosa finirà Di tutti gli uffici Per dire un esempio Di tutti gli uffici tributari Il famoso Palazzo Rosso Di Porta Madonna Potrebbe teoricamente Rimanere completamente vuoto Allora questo Oggi è un argomento Che credo sia Molto più politico Che tecnico E quindi credo Che se da un lato La scelta di dire Abbolliamo le province Con il percorso costituzionale Poteva essere Una scelta tipicamente tecnica Di un governo tecnico Quella di dire Accorpiamo le province Riducendone di circa Un 50% Sia più una scelta politica Che poco sia adatta A un governo tecnico Adesso le dedichiamo Una canzone Le dedichiamo Non lo so Perché non so Di che canzone parliamo Magari è una canzone Che non la possiamo dedicare Perché poi mi sono ricordata Che canzone è Ecco perché sono tornata in piedi Che non la possiamo dedicare A Mazzarelli Però al di là dei contenuti È una canzone Della tradizione Della musica italiana Che è una delle più belle Esatto Dal grande dottore Ma ora mi incuriosisce Che canzone è? Che canzone è? Chiede Malafemmana Ah beh sì certo Non è proprio indicatissima Però va bene uguale dai Rimane se no È che io me ne sono ricordata Non è indicatissima Ma va bene uguale Sì andiamo con l'ultima canzone Poi la pubblicità E io intanto vi saluto su questa canzone Grazie Donatea Ci vediamo la prossima settimana Mercoledì prossimo Grazie ragazzi Buongiorno 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 Tu sei una jove Femmanà, chi stuocchia è fatta, chi andrà, lacrime e infamità. Femmanà, se tu peggio non avviperà, ma intusca dell'anima, e non posso più campare. Femmanà, si stuocchia, come un soccorale, però sta faccia d'angelo, ti serve per ingannare. Femmanà, si stuocchia è fatta, chi andrà, femmanà, ti voglio bene, t'odio, non ti posso scordare. Femmanà, si stuocchia, come un soccorale, ti serve per ingannare. Femmanà, si stuocchia, come un soccorale, ti serve per ingannare. Femmanà, si stuocchia, come un soccorale, Femmanà, si stuocchia, come un soccorale, femmanà, chi stuocchia è fatta, chi andrà, e non mi fai campare. Femmanà, si stuocchia, come un soccorale, femmanà, ti voglio bene, t'odio, non ti posso scordare. Non ti posso scordare. Non ti posso scordare. Siamo sempre in compagnia di Enrico Mazzarelli, segretario della presidenza della giunta regionale abruzzese. Passiamo dal governo nazionale al governo regionale a Teramo. Lei partecipa al conclave del comune di Teramo? Sì, volentieri. Penso di essere sabato con gli amici amministratori del comune. L'affetto che ci lega sotto l'aspetto istituzionale, ma moltissimo sotto l'aspetto personale, credo che sia evidente a loro quanto a noi, quanto a me. Oggi leggevo con grande curiosità questo rilancio di un aspetto del settore che tra l'altro avevo gestito io come assessorato quando sono stato in comune, e quello legato ai piani integrati per la rivisitazione di certe zone sensibili del territorio del comune, che sono sicuramente molto importanti. questa cosa mi piace molto, quindi molto volentieri vado a salutare gli amici e a sentire un po' i loro programmi, i loro progetti per il prosieguo dell'attività amministrativa, anche perché poi alla fin fine siamo a un anno e mezzo, poco più, dalle elezioni anche al comune. Dalle elezioni anche al comune. Io non perché voglio sembrare la solita fissata, ma in un conclave non si parlerà solo di, e non si farà penso solo un bilancio amministrativo, ma si parlerà vista anche la situazione attuale della giunta Brucchi e anche di politica, perché lì c'è da risolvere una questione abbastanza delicata. Il ruolo del vice sindaco è stato sfiduciato dai suoi consiglieri? Sì, però sono situazioni che credo debbano essere rimesse nella gestione del sindaco. Credo che siano le competenze tipiche di un sindaco che ha il suo gruppo consigliare e all'interno del gruppo consigliare individua i collaboratori che vanno con lui in giunta e che rimane in consiglio. e credo che Maurizio in questo sia stato sempre molto equilibrato. Credo che abbia un gruppo, intanto numericamente addirittura rafforzato dall'inizio del percorso. È comunque un gruppo che è affidabile, un gruppo che lavora, un gruppo che è presente, quindi credo che in questo Maurizio sia facendo veramente un grande lavoro. E torniamo alla Regione Abruzzo. Tagli e spese di questa giunta? Io questo aspetto ci tengo a sottolinearlo perché molto del lavoro che è stato fatto è stato fatto intanto senza avere la tagliola del Governo. Oggi viene fuori che il Governo impone alle Regioni il taglio del numero dei consiglieri, ma noi l'avevamo deliberato prima, impone alle Regioni di intraprendere un percorso virtuoso che tenga conto di tanti, chiamiamoli sprechi, per esempio quello che si è letto, quello che si è visto per le risorse che sono state destinate nelle altre Regioni ai gruppi consigliari è oggettivamente un aspetto inaccettabile che in Regione Abruzzo non c'è. L'impostazione della Regione Abruzzo nei confronti degli enti, l'eliminazione di una serie di agenzie, sia il riaccorpamento tutto all'interno della Regione è servito a tagliare spese e ad eliminare costi inutili, eliminare l'Agenzia per la promozione turistica, l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, la società ingegneria regionale, mettere in liquidazione Abruzzo Engineering e ripeto vado a memoria, ma ce ne sono altre. Sono passaggi che comunque sono riusciti a trasformare in realtà uno slogan di campagna elettorale di Chiodi che era quello di invertire la rotta di un transatlantico. la rotta di un transatlantico non si inverte in un giorno, non è un motoscafetto, ha bisogno di tempo, però oggi la rotta è davvero cambiata, cioè la Regione Abruzzo oggi intraprende fortemente un percorso di virtuosità che viene riconosciuto a livello nazionale, cioè poter dire che a porta a porta l'altra sera è venuto fuori questo schema delle Regioni e la Regione Abruzzo sulla base delle disposizioni del Governo è l'unica a non dover apportare tagli, vuol dire che è già in linea con quelle che sono le previsioni che il Governo ritiene che debbano essere attuate dalle Regioni. E il fatto di dover risanare un bilancio quello sanitario così disastrato ha inciso parecchio poi nella scelta anche di fare questi altri tagli? Ha inciso in una logica generale per la quale la Regione Abruzzo era di fatto una Regione fallita. Cioè la Regione Abruzzo si trovava nella situazione della Grecia e ha dovuto far ricorso, non potendo più pagare fornitore, ha dovuto far ricorso alle altre Regioni. Però il percorso lo ha intrapreso con serietà, con coerenza, portando avanti dei risultati. Io ripeto, dobbiamo oggi aumentare la percezione del risultato in sanità percepita. è ancora poco percepibile. Dobbiamo migliorare in quelli che sono gli aspetti che la gente vede tutti i giorni. Uno per tutti le liste di attesa, per intenderci. Cioè capire oggi... Sembra un problema irrisolvibile quello delle liste di attesa. È un problema... Almeno per quanto riguarda, come diceva lei, la percezione dei cittadini. È sicuramente difficile. Tutti i problemi di sanità percepita sono difficilissimi. Ma dobbiamo renderci conto che se non avessimo risolto a monte il problema finanziario della sanità abruzzese noi questi problemi non li avremmo mai neanche potuti affrontare. Oggi abbiamo visto i dati di Sant'Omero che sono dati estremamente confortanti. Certo, c'è moltissimo da fare. Però i dati sono già il segno di un cambiamento. Bisogna migliorare. Bisogna continuare a migliorare sul termine. Però per immaginare che avevamo il blocco del turnover il che significava di fatto che non potevamo sostituire il personale che andava in pensione con le ovvie ripercussioni negative sui servizi oggi abbiamo il 90% del turnover vado a memoria e che vuol dire che sostituiamo al 90% il personale che va in pensione quindi rimanendo su una soglia di servizi che sono quelli che vengono offerti. Poi mi si dirà ma c'è questo che non va bene c'è quest'altro che no. Sicuramente. Su quello bisogna continuare a lavorare. Questo è più compito diciamo delle direzioni generali di quelle che sono le ASD sul territorio. Però se non ci fosse stata la scelta e il risultato di politica sanitaria non avremmo potuto prendere nemmeno in considerazione la sanità percepita. questo io lo vedo perché lo percepisco davvero quando andiamo ai tavoli della sanità dove Chiodi rappresenta personalmente l'Abruzzo nell'apprezzamento da parte non solo del tavolo ministeriale ma delle altre regioni per la più parte regioni che non sono neanche della nostra parte politica che comunque fanno i complimenti per il risultato. allora io credo che questo sia un aspetto molto importante che poi si traduce anche in questo che sta diventando un tormentone di Chiodi Premier cioè l'apprezzamento per un lavoro fatto. Quanto c'è ancora da fare nel settore sanità in Abruzzo per arrivare ad un risanamento quindi dobbiamo metterci in mente che l'Abruzzo deve e può avere una sanità efficiente a prezzi sostenibili solo quello è l'obiettivo di una sanità moderna. L'Abruzzo si proponeva in Chiodi lo ricorda spesso in una delle prime conferenze delle regioni per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale venne immediatamente accusato che l'Abruzzo era quello dei 35 ospedali delle neurochirurgie dei primariati oggi tutto questo è un capitolo superato oggi l'Abruzzo è tra le tre o quattro regioni che realmente riescono a mantenersi in equilibrio sanitario e devono oggi avere un obiettivo diverso mentre le altre regioni stanno andando in disavanzo e quindi stanno mettendo tasse l'Abruzzo può da un lato prospettare di ridurre le tasse che sarebbe un obiettivo oggettivamente straordinario e dall'altro però ha l'obiettivo più politico di dimostrare come questo risultato possa essere tradotto in sanità percepita dei cittadini e nel miglioramento della sanità percepita dei cittadini credo che questa sia un'altra grande sfida con la quale misurare anche i manager dell'ASA. E' vero che questo è un dato di fatto e non è un giudizio ovviamente di carattere politico avete trovato una situazione e purtroppo anche i fatti legati a vicende giudiziarie lo dimostra una situazione disastrata forse nessuna regione italiana forse ha mai raggiunto i livelli dell'Abruzzo nel settore sanità insomma di questo rischio siamo stati la prima regione a fallire dunque potevate solo migliorare migliorare penso che forse andare sotto alla situazione che avete trovato forse era difficile io credo che alcune regole che questa amministrazione si è data e che ho riuscito a mantenere abbiano un grande senso un grande senso sotto il profilo personale ma anche sotto il profilo politico il discorso di non perseguire ulteriormente la strada dell'indebitamento è un segnale importantissimo perché ripeto tutto si traduce poi in un significato concreto allora dire che noi non facciamo più debiti e continuiamo nel frattempo a pagare i debiti che altri hanno fatto vuol dire che la regione Abruzzo dal 2015 quando avremo finito di pagare la prima cartellarizzazione della sanità avrà a disposizione ogni anno una trentina una quarantina di milioni di euro in più per ciascun anno da destinare alle esigenze di bilancio quindi non far debito si traduce in un risultato concreto in un risultato poi di poter migliorare la spesa dopo ma è un ragionamento che si adatta molto semplicemente anche a una famiglia cioè in Abruzzo le varie amministrazioni che si erano succedute a dispetto della colorazione politica avevano semplicemente aumentato il debito pubblico regionale e negli ultimi facciamo dieci anni ma probabilmente meno il debito era passato da 500 milioni di euro a 4 miliardi di euro io credo che alla fine di quest'anno noi l'abbiamo preso a 4 miliardi di euro io credo che alla fine di questo anno noi potremmo certificare un indebitamento ricondotto a 3 milioni di euro quindi con un abbattimento del debito pubblico regionale del 25% credo che sia un risultato straordinario che metterà in condizione la regione di ripartire per tutti quelli che sono i servizi offerti se contiamo anche che finalmente avendo la disponibilità dei fondi FAS potremmo dare delle risposte sul territorio nonostante abbiamo dovuto operare una serie drastica di tagli credo che il risultato dell'amministrazione possa cominciare oggi a essere visto in un'ottica molto diversa rispetto a come si vedeva fino a qualche mese fa il governatore tra le altre cose in più di un'occasione ha anche annunciato che la regione ridurrà anche le tasse già a partire dal prossimo anno è un obiettivo fortissimo obiettivo fortissimo sul quale ci giochiamo anche la credibilità di quelle che sono state le operazioni svolte dalla regione perché ripeto gli aspetti importanti poi devono essere aspetti che vengono percepiti dalla gente allora dire che quello che avevamo detto la possibilità per esempio di acquistare macchine nuove per la sanità le nuove TAC che sono state acquistate il nuovo personale che può essere inquadrato all'interno della regione la possibilità di abbassare le tasse incidendo su quelle accise che erano su quell'aumento che era stato necessario introdurre per il riequilibrio del sistema sanitario sono obiettivi importantissimi ripeto le altre regioni le stanno aumentando le tasse allora condivido quello che diceva in televisione Chiodi qualche sera fa nella logica della tutela delle regioni quindi della salvaguardia di quei principi del titolo quinto c'è quello di dare alla gente la possibilità di scegliere a livello regionale chi riesce a incidere sul debito pubblico riducendo le tasse che gravano sui soggetti di un certo territorio e chi invece è tenuto ad aumentarle prima di salutarci torniamo alla questione delle province anche perché lei è anche un consigliere provinciale lei andrà a marciare con Brucchi sull'Aquina allora Maurizio ha un'idea importante che è quella della tutela del territorio terramano al di là delle valutazioni fatte e dei criteri introdotti del governo nell'ambito della normativa che finora è stata emessa per regolare questo passaggio che era iniziato ripeto come soppressione e poi è diventato per aggirare i problemi costituzionali un riordino delle province io credo che la proposta che sarà fatta in Regione che è stata anticipata dall'Anfranco Ventuaroni cioè zero province sia una proposta assolutamente intelligente nel senso però se non sbagli a Brucchi questa idea non piace ma guardi io non ho parlato di questo in concreto con Maurizio non so se lui pensa che questa sia un'ipotesi sulla quale si può allineare o meno però penso che sia una cosa intelligente perché partiamo da un principio qualche mese fa un annetto un annetto e qualche mese fa un sondaggio diceva che il 90% degli italiani era favorevole dell'abolizione delle province però non era stato sottoposto agli italiani il problema dei servizi io credo che oggi parlare di una riorganizzazione di un riordino delle province così come indicato al governo che non tiene conto dei servizi sul territorio sia un aspetto che non troverebbe favorevole la maggioranza degli italiani perché immaginare che sì magari poi si possa mettere d'accordo per avere la questura o la prefettura o gli uffici finanziari indubbiamente si va a complicare un sistema mentre la logica di dire aboliamo le strutture se vogliamo politiche provinciali a favore invece di una di un mantenimento dei servizi sul territorio credo che sia un'idea che sia che non solo sia in linea con il programma elettorale di gran parte dei partiti PD, PDL, UDC ma anche con quella che è la volontà dei cittadini e in questo senso poi il governo deciderà sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalle varie regioni quindi anche ma guardi probabilmente un'indicazione ce l'hanno perché non credo che possa passare una logica di soppressione senza il percorso costituzionale mi viene spontanea una domanda ma perché questo governo non ha fatto il percorso costituzionale per eliminarle le province e oggi si rifugia dietro l'ipotesi di una di un riordino per decreto che poi diventi legge attraverso una conversione con il vincolo della fiducia Lei se l'è dato una risposta? Beh sì la risposta è che qualcosa bisognava dare qualcosa bisognava pagare un po' alla pancia e un po' all'Europa e allora si è utilizzato il criterio delle province perché indubbiamente sono più deboli delle regioni e non offrono quel contatto immediato con la gente che offrono i comuni per cui il comune è obiettivamente la frontiera è intoccabile però se ragionassimo un po' di più e anche su questo poi chiudiamo su un passaggio regionale se ragionassimo un po' di più sulla opportunità di immaginare unioni di comuni con un miglioramento dei servizi e contenimento di costi specie per esempio dei comuni di montagna ma non solo dei comuni di periferia l'unione dei comuni che noi abbiamo invibrata è una cosa assolutamente di qualità perché individua la possibilità di avere servizi che altrimenti i comuni non potrebbero avere perché non se li potrebbero permettere con costi sostenibili questo è un obiettivo che noi come regione abbiamo individuato per esempio nella logica della eliminazione delle comunità montane a livello del mare cioè diciamo nelle economie di scala nella soppressione di una gran quantità di consorsi fidi che in Abruzzo erano di più che in Veneto in Lombardia in proporzione agli abitanti allora queste sono le logiche che secondo me potrebbero essere seguite anche dal governo molte già seguite dall'Abruzzo sul quale l'Abruzzo si è già espresso in maniera concreta dando risultati e che secondo me giustificherebbero davvero l'operato del governo Monti grazie grazie a Enrico Massarelli segretario della presenza della giunta regionale finalmente te lo sei imparato qua ci ho messo tipo quei quattro anni sì sì ma io lo guardo perché per sicurezza perché tra l'altro non si può mai sapere se poi adesso che ho imparato la sua qualifica magari lei facciamo uno scherzo te lo cambiamo mi avanza di grado ci facciamo uno scherzo in virtù della famosa fantapolitica tutto può succedere tutto può succedere poi l'ha detto lei tutto anche in una notte figuriamoci magari perché no sognare anche di notte si sogna grazie ad Enrico Massarelli noi vi lasciamo intanto al telegiornale Flash di Teleponte vi ricordo stasera alle 20 e 30 torna il fare banca subito dopo alle 21 basket and basket questa trasmissione torna domani pomeriggio sempre alle 15 grazie per l'attenzione arrivederci a presto a presto